Vorrei avviare queste brevi riflessioni citando un passo significativo di Papa Francesco. C'è un'idea forte, afferma Papa Francesco, che mi ha colpito pensando all'edità di San Celestino V. Lui, come il San Francesco di Assisi, ha avuto un senso fortissimo della misericordia di Dio e del fatto che la misericordia di Dio rinnova il mondo. Pietro da Morrone, come Francesco d'Assisi, conoscevano bene la società del loro tempo, con le sue grandi povertà. Erano molto vicini alla gente, al popolo. Avevano la stessa compassione di Gesù verso tante persone affaticate e oppresse, ma non si limitavano a dispensare buoni consigli o pietose consolazioni. Loro per primi hanno fatto una scelta di vita controcorrente. Hanno scelto di affidarsi alla provvidenza del Padre, non solo come ascese personale, ma come testimonianza profetica di una paternità e di una fraternità che sono il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo. Mi pare interessante, quindi una pista teologico, storica, culturale da esplorare, questa connessione tra San Francesco d'Assisi e Celestino V.